Musica Adesso il diavolo porterà la parola, perché dall'ascolto cresce e si alimenti la nostra fede. Poi una bambina porterà la luce, simbolo della fede che abbiamo ricevuto nel battesimo. E infine una famiglia porterà un cuore, che rappresenterà i cuori di ciascuno di noi, chiamati a credere, ad annunziare e a servire il Signore. Facciamo il canto 435. È un canto nuovo, dovete portarlo. Musica 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 Alleluia, alleluia, non viviamo tanto che Gesù, Gesù è il Signore Leggiamo la parola dalla lettera ai Romani al capitolo 10, versetto 10 E' la parola che è venuta da tutto per la famiglia Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia E con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza Dice infatti la scrittura Chiunque crede in lui non sarà deluso Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo Chiunque crede in gliаются Chiunque crede in gli united Adesso può trovarsi E con la bocca si fa la bella E con la bocca si fa la Shoah Qui sa laentsa E con la bocca si fa la feina Non sabrano fare Miente di tu consideredà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.